Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosa E? A-S-M-R Siamo ancora qui, questa bellissima nuova casa, abbiamo già redato quattro stanze, oggi in questa puntata ne faremo tre e nella prossima finiremo le ultime tre e per poi insomma vedere cosa ci, se finisce il gioco o se ce ne sono altre perché non ne ho idea non so quanto andremo avanti con questo gioco, cioè io lo voglio finire ecco, però non so quanti altri tra virgolette livelli ci siano quasi quasi mi dispiace finirlo, un giorno lo finiremo però mi hanno già chiesto un nuovo gioco quindi non ti preoccupare che è simile a questo, non ti preoccupare perché non lascerò le serie gameplay della domenica perché è troppo bello stare con te la domenica creatura quindi direi già di procedere ci avanzano quelle che lampeggiano quindi finiamo il piano te, questo piano qua, guarda qui quante ne abbiamo in questa puntata faremo lo studio la stanza da pranzo qua, la camera da pranzo e poi andremo al piano di sopra a fare una di queste tre stanze, dopo vediamo insieme e decidiamo dopo man mano e quindi poi nell'altra puntata avremo le altre tre stanze del piano di sopra faremo la stanza del bambino, va bene? quante ne ha? è tante però facciamo la camera da letto e dopo nell'altra puntata ci teniamo tutte queste cose va benissimo dai, è andata, abbiamo deciso perfetto andiamo allo studio che abbiamo un sacco di scatoloni la nostra solita coccarda che chissà cosa abbiamo vinto un nuovo peluche di una starchetta carinissima che è sta cosa? non lo so forse è un premio di qualcosa? non ne ho idea ho i nostri soliti libri satanici e quelli bassetti che non mi piacciono guarda il nostro tavolo mi sembra più allargato ci stanno più cose portadocumenti immancabile non lo schiappiamo sempre dentro a qualche armadietto i post-it mi servono, li devo avere a portata di mano la gomma mi serve perché qua non si aprono i cassettini che cos'è? un maialino le cuffie non c'è qualcosa per appenderle no? il nostro computer portatile che me lo metterò solo rovescio non mi piace questa cosa ma questo è altro come qui perfetto portapenne questo qua d'ufficio qua anche non so come si chiama decorazione d'ufficio i nostri disegni ah che abbiamo iniziato a disegnare molto meglio devo dire si facciamo di che è sta roba non lo so via il maialino ah qua sono la la carta gli A4 le foglie A4 per la stampante si può spostare la casetta bene ok i nostri blocchi d'acqua ne abbiamo tantissimi perché abbiamo fatto un sacco di disegni qua ci sono i fili via 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 eh questo di solito non va qua di solito lo teniamo lo stolo lo teniamo qua ma manca il piedistallo non eravamo qui eravamo nello studio ok eccolo qua ti pareva che lo trovavo dopo ci senti mi piace molto di più metterlo bene così ok un po' in alto effettivamente però non non credo che lo useremo tanto abbiamo imparato ad utilizzarlo quindi si sbaglia sempre da quelle due stanze la bajou qua abbiamo messo i pennarelli i pantoni possiamo lasciarli qui o anche tenerli qua fuori adesso vediamo in base a quante cose abbiamo questa io l'avevo messa nella camera da letto però possiamo anche tenerla qua e che fai? che fai? che fai? eccolo qua il nostro libro del Benjo no il Benjo scusa la tela qua per dipingere aspetta ok siamo diventati super esperti ormai peccato che questa qua non me la faccia mettere ma la piantina grassa si non mi piace quella con le spine orologio lilla come le tende è il nostro amato dado che c'è sempre 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 ci accompagna per sempre ma è il nostro libro questo è il libro che abbiamo disegnato e scritto illustrato quello del maialino secondo me abbiamo siamo in modo fa parte del nostro lavoro secondo me perché quel maialino lì ci accompagna ora quanti sono tutti uguali allora sono tutte le copie può essere vero? mettiamo via il computer portatile perché secondo me abbiamo un computer un po' più grande un po' più grande eh infatti eccolo qua non l'avevo visto eh ma adesso abbiamo tutti i posti dietro allora aspetta non mi piace così allora aspetta un attimo facciamo un po' più di ordine non avevo il computer non l'avevo considerato no ok allora preferisco così no che mi avrei voluto mettere i posti di lì ma non mi li fa mettere ecco già più carino così vero? la pallina di stress ce la teniamo qua vicino a portata di mano eh vedi dai secondo me abbiamo è il nostro libro quello lo stiamo promuovendo sì sì allora aspetta lo mettiamo qua se mi piace in più il mouse ok ok con questa mano teniamo il mouse con questa ci teniamo l'antistress è tutto calcolato il diploma stavolta lo appendiamo è perché ci ha servito forse la nostra tavoletta grafica che è gigante aspetta allora abbiamo fagli spazio questo si può mettere per terra il brutto mettiamo qua mettiamo lo spazio questa mega tavoletta per disegnare allora mi serve a disposizione quindi la metterei qua le cuffie le teniamo un attimo perfetto così ha già più senso questo ci sta qua ok libro altro libro e il wifi mettiamo qua o anche qua sì ha ragione bello anche qua ok bene i libri quando ce ne sta più aspetta le faccio un attimo qua dopo lo spostiamo giuro il computer ok poi metterlo qua qua lì c'è il cestino ma penso si possa mettere anche qua ma lì no perché mi da fastidio che le gambe capito possiamo chiuderlo ecco possiamo fare così se tu dici ok allora qua per quanto riguarda i libri in realtà dovrebbe esserci anche qua questo spazio qua volendo e se guardi questo qui per esempio starebbe così tanto dobbiamo farla a sta stanza la facciamo adesso se vuoi ok allora piantine a me piace metterle qua però questa non me la fa mettere però non siamo credo obbligati a tenerla per forza in quella stanza ce n'è praticamente quasi una in ogni stanza anche nei bagni qua non ci sta dobbiamo metterla anche qua no meglio di no qua è bella però oh mi piace teniamo qua ok allora facciamo questa stanza qui che è la camera la stanza da brazo camera da brazo ok me lo ricordo questo era un biglietto di qualcosa qua ci sono i nostri libri di fantasy la nostra saga che c'è appassionato fin da ragazzina se ti ricordi una foto di famiglia la metto lì intanto beh ma se io apparecchio tipo per fare l'aperitivo o no allora questi avevano detto che dovevano stare con i libri ma non stanno non riesco a appoggiarli no allora mi sa che non abbiamo capito cosa sono mi sa che non sono fermo ai libri il sale mi sa che vanno in cucina no aiuto aspetta oh no avevamo finito mi sa che vanno qua a bicchiere cosa ne pensi ma dove li mettiamo non c'è più il posto mannaggia dove li mettiamo i bicchieri oh oh buh vabbè la sala da pranzo ecco vabbè li metto qua dopo li spostiamo questo 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 vado qua per fortuna che poi è lasciato dello spazio non so cosa sia sembrerebbe una specie di computer non lo so vabbè vabbè e lasciamo l'intanto poi si vedrà l'altro libro altro libro altro libro altro libro fantasy altro libro fantasy non ce la so più sotto picchiere vediamo wow non ci sta questo libro perché no non mi piace sta cosa non mi piace che non ci sia il libro perché no qui possiamo spostare questo che era dell'altra stanza non mi piace questo che stia qua da solo allora non lo so non so cosa fare vabbè lo mettiamo qua intanto un altro computer forse di lei forse di lei lo mettiamo qua non me lo fa mettere stiamo qua intanto piccolino 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 aspetta che qua c'è rispettare anche l'ordine di grandezza beh a volte sono illusioni ottiche eccolo qua e se lo mettiamo qua sul frigo avevano detto sul frigo spero non sia che non sia poco rispettoso magari se il gioco ci dice di spostarlo capiamo che non era una buona scelta altrimenti va bene lo stesso va bene lo stesso un poster che lo mettiamo allo studio allora aspetta bello anti-hero anti-hero ok ho un nuovo altri libri ma ce la sanno allora questi qua sono di questa saga qua la tovaglietta aspetta 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 beh più bello mettiamo un cucchia ok ok che e c aspetta ai c che tutto questo lo spostiamo eh non so perché non c'è più posto eh no, non c'è posto vediamo come lo fa mettere qua eh ma qua è brutto ma lo so sembra un piatto decorativo più che da non lo so da aperitivo lo schiaffiamo qua, tanto non gli andrà bene perché è bello è un piatto bello da vedere quindi sicuramente è decorativo e sicuramente va in vista però non siamo sicuri quindi le salviette l'altra tovaglietta no ok non me le fa mettere sopra la tovaglietta quindi le mettiamo qua no 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 ok ok e così non so o no il tostapane dove mettiamo il tostapane no eh andava lì vediamo no non andava neanche lì volendo tostapane dove lo mettiamo e niente e lo mettiamo qua lo tostapane possiamo anche metterlo qua in alto se ha il gioco papini sembra se ha il gioco papini lo scopriremo nell'ultima puntata e abbiamo detto che avremmo fatto la camera da letto e andrebbero le piante in camera da letto questo gioco è un po' furbetto ok però c'è il senzè con la candelina e le altre candeline mi è venuta un'idea questo la mettiamo in camera da letto è più carino qua lì è appunto il nostro gattino morto i pulchini i pulcini li mettiamo qua ci staranno tutti chi lo sa chi lo sa chi lo sa una pinna è perché la scrittrice ha bisogno di tenere sempre con sé una pinna un blog notes per i suoi per le idee per appuntarsi le sue idee eh sì così le cuffie le metto qua ma non sono sicura ah ma noi abbiamo una camera armadio eh mettiamo qua tanto poi in qualche tonno non ho capito perché ce ne abbiamo ma va bene lo stesso va bene lo stesso non ho capito non ho capito che altro bucci con il sederino che non ho troppo sono quanto sono bucci ce l'ho troppo belli questi sederini dobbiamo trovarli tutti anche noi abbiamo sempre di più tra l'altro la nostra collezione è infinita forse l'acqua calda la mamma la mamma dei polcini questo è un uovo il polcino con gli occhiali da sole top il mio preferito è quello con l'uovo in testa secondo me perché è tipo quelli polcino speciale che è nato in ritardo avvio non lo so mi piace l'idea sarebbe stato buono a litire il polcino nero calimero allora credo che questa sia la stampante che va nello studio ma non ci sta perché c'è questa pianta in mezzo ai uoi quindi niente la pianta la spostiamo però non ci sta questa pianta poverina non lo so questa qua è brutta qua non me la fa mettere se io sposto questo non va comunque qua niente non c'è la vuole e la lasciamo qua a sto punto però mi dà l'idea che appena sposto questo lei cade e si rompe quindi che facciamo lo spostiamo però ci sta bene sto verde allora spostiamo queste cose e mettiamo la pianta qua eh qua ci sta bene perché dà un bel tocco di colore verde il dato la mettiamo qua e questa la schiaffiamo qua tiè è fatta è fatta benissimo tutto al loro posto tutto al proprio posto e stavamo facendo questo bello rilaccuma 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 eh no questo è più bello il tuo preferito qual è creatura c'è anche quello col poppion sì ma qua c'è troppa roba aspetta facciamo qua ecco solito facciamo ancora palestra però lei viene con noi beh ovvio ovvio ok credo che questo sia il set da cucito secondo me beh ma ne abbiamo tanti nuovi comunque eh c'è la versione eh eh è bella anche questa perché sembra che è bel pannolino eh eh non lo so ma quello con il cappellino mi fa più ridere con l'ovietto cappellino non lo so perché anche ciccioni questa credo sia una non lo so una cassa di qualcosa io mi ricordo che non stava qua però stava giù stava tipo qua non me lo ricordo onestamente lo schiaffiamo di qua e tante care cose allora torniamo alla nostra camera da letto o no ce ne sono due non è che sono tipo baby monitor no monitor no ma sembrano delle casse sì sembrano delle casse però allora dove c'è la tv forse non lo so e allora mettiamo uno qua proviamo tanto se poi non gli va bene ciò che ce lo dice senza neanche battergiglia e mettere una una boh non lo so sembrano delle casse però non sono colorate diverse noi abbiamo sempre avuto questa e lei aveva questa l'ha introdotta lei credo Cassandra tipico nome orientale della lata mi sembra tantissimo no super super orientale questo nome Cassandra o il mio popo c'è finisce la parte vabbè ok ah tocca fare le scale già nello studio ok siamo veramente qua tocca fare le scale per portare gli oggetti finito ok sì per adesso così mi sto bene spero che questo video ti sia piaciuto io come sempre ti auguro buon riposino domenicale buonanotte buon relax ciao creatura per ora per ora dissol숨